ciao a tutti ragazzi buona buonasera oggi local di venerdì prima della vostra movida perché io di movida oggi non la faccio quindi prima della vostra movida vedetevi questo piccolo video durerà poco molto molto poco oggi parleremo di di maio parleremo del suo nervosismo parleremo di centro-resta come pian piano sta facendo di nuovo capolino anche se con difficoltà vediamo un po' se il wifi noi il wifi lo leviamo anche se sta facendo un po' di difficoltà il centro-resta sta rifacendo capolino e poi parliamo di un di maio made in messico che è obrador partiamo con di maio i meet up urlano vogliamo i soldi vogliamo i soldi vogliamo i soldi quali meet up i meet up di pomigliano d'arco e di vicino napoli quei meet up che hanno lanciato politicamente di maio perché chiedono i soldi perché giustamente queste persone hanno votato di maio hanno dato tanti voti e tanto consenso a questo ragazzo e secondo me li ha meritati perché ormai sta lì da sta sulla breccia da un bel po' di tempo hanno dato i voti semplicemente per il reddito di cittadinanza non c'è nessun'altra ragione questi qua hanno detto o ragazzi voi dovete pagarci perché noi stiamo qui abbiamo votato non vediamo un soldo voi fate contenti gli elettori al nord della lega abbassando le tasse ma visto che noi non abbiamo niente noi vogliamo dei soldi in più e giustamente di maio sta facendo sta rompendo le scatole a destra e a manca sta rompendo le le balle a tria sta rompendo le balle ai burocrati del del ministero dell'economia sta minacciando di far saltare poltrone eccetera 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 perché lo fa perché semplicemente se non porta avanti queste riforme di maio è morto anzi il movimento 5 stelle è morto non so se sicuramente di maio politicamente è morto e forse arriverà di battista a fargli le a fargli le scarpe però assolutamente se di maio non porta avanti questa misura è morto i meet up vogliono questo lui deve farlo quindi ha minacciato primatria ha minacciato adesso questo povero franco che nessuno conosce sembra che sia il commander in chief del del ministero anzi franco mi sembra che è il ragioniere generale dello stato quindi è quello che tiene i conti di dello stato di maio continua a chiedere voglio i soldi addirittura oggi si è trasformato in un proto leghista ha detto voglio dare rettito solamente agli italiani che è leggermente incostituzionale forse hanno detto in pochi quindi di maio sta facendo una corsa a ostacoli una corsa secondo me affannosa in cui lui neanche si rivede molto una corsa affannosissima per riprendere salvini che sta diventando il vero dominus di questo governo torniamo infatti a centro-destra torniamo a centro-destra che pian piano rifà capolino io rimango convinto di quello che ho detto l'altra volta che il centro-destra al livello nazionale e di coalizione anche se berlusconi continua a dire che si ritorneremo insieme si il centro-destra li vincerà secondo me il centro-destra quello che conoscevamo prima del 4 marzo è morto secondo me ci mettiamo 10 euro smettiamoci 10 euro vediamo chi li vince quindi quello lì per me è morto poiché il centro-destra mantenga le alleanze locali quello non c'era nessun dubbio nei comuni nelle regioni con lì non c'è nessun dubbio però secondo me il centro-destra all'euro nazionale è morto e sembra che comunque sia le misure del centro-destra l'abbassamento delle tasse chiamatelo flat tax chiamatelo come volete stanno prepotentemente dominando questa finanziaria perché mentre si stanno si fa molta fatica a coprire le misure dei 5 stelle misure di pura spesa pubblica e di puro assistenzialismo mentre si stanno trovando molti più soldi per coprire l'abbassamento delle tasse che si chiami flat tax che si chiami come volete però li stanno trovando i soldi quindi secondo me questo è un fatto positivo che anche se il centro-destra come coalizione politica è morto ma quelle quelle politiche pubbliche quelle politiche fiscali che il centro-destra sempre sponsorizzato stanno rifacendo capolino e questo al di là dei partiti al di là di fid di mezzata al di là di fd mezza morta al di là della lega al 30 per cento quelle politiche anche se non hanno una coalizione larga che rappresentano quelle politiche fanno breccia e quindi questo è un bene anche se non c'è nessun partito solido dietro a parte la lega che le sponsorizza quel tipo di cultura sta facendo breccia io non posso essere da liberale che contento quindi per me è perfetto poi torniamo anzi andiamo in messico dove c'è un di maio che è ancora più scemo di di maio che si chiama obrador obrador è il presidente eletto vi ricordate che di maio sbandierava sull'aereo quel biglietto low cost per chengdu in cina bene obrador ha detto io non viaggerò mai con l'aereo presidenziale perché sono un tipo austero bene obrador non viaggiando con l'aereo presidenziale ha fatto sette ore di fila 7 all'aeroporto di città del messico voi ditemi se ditemi se questi populisti alla matriciana questi populisti al burrito sono sono seri uno un presidente eletto che rappresenta un paese di 150 milioni di persone che fa la fila per sette ore all'aeroporto a voi la parola a voi la parola quindi ci stanno troppi di maio in giro troppi che volano in tassi con me ma volate in business cavolo ce l'avete i soldi vi ve li pagano questi cavolo di biglietti volate in business no sette ore all'aeroporto ma neanche veramente a caracas aggiungiamo una news oggi sulla brexit visto che siamo qui a londra quindi un attimo torniamo qui in inghilterra qui a londra la brexit ha detto io il mio piano il mio checkers plan l'ho presentato è chiaro voglio fare un po di cherry picking voglio star fuori ma godermi un po di mercato unico lui deve propormi un contropiano perché perché sia barnier sia alla commissione hanno detto no se tu stai fuori stai fuori quindi non fai nessun cherry picking quindi la mei oggi ha fatto una conferenza stampa in cui è semplicemente detto bene io il mio piano ce l'ho fatemi vedere il vostro a dire la verità lui lo ha detto chiaramente il checkers plan è bocciato bocciato lo hanno detto non lo hanno detto chiaramente lo hanno fatto intendere ma l'idea è quella ci sentiamo domani anzi ci sentiamo domani meglio no perché vi faccio godere il sabato ci rivediamo domenica domenica mattina a presto ciao ciao